Allora, bentornato a Bruno Buletti della cioccolateria Fratelli Buletti, l'inesima edizione per lei qua del panettone. Cosa ha portato di novità quest'anno? Ma quest'anno di novità ho portato Nostrano che in Ticino è già uno dei panettoni fuori del comune che abbiamo, che la maggior parte li fa regolarmente. Si tratta di un panettone ovviamente basso perché è molto ricco di frutta, c'è noci, torciole, a macero va anche con nocino e inoltre c'è tanto burro ancora in più. È una particolarità, ovviamente è un panettone molto ricco e calorino. Soddisfatto dell'edizione di quest'anno? Sì, benissimo, benissimo e vedo che anche la gente sta capendo meglio cos'è il panettone e vedo una grande affluenza anche al sabato. Si va sempre in meglio. Quindi ci conferma la sua presenza anche l'anno prossimo? Sì, sicuramente. Perfetto, la ringraziamo e buona edizione. Grazie mille a voi, ora continuiamo la volta.